Gerolatrice, gerolatori, buongiorno, bentrovate, bentrovate a tutti quanti a un altro mercoledì da fabula Aspetta che mi sposto un pochettino, ecco così sono più centrato Con noi sottofondo c'è Ema, adesso ve lo farò vedere perché siamo anche molto gavanizzati Sapete che tra una settimana a quest'ora noi saremo ad Essen L'indomani inizierà la fiera di Essen, quindi il lancio internazionale di fabula Quindi abbiamo una scimmia veramente, veramente importante Oggi infatti vogliamo comunque parlare delle peculiarità del Natural Fantasy Che non abbiamo ancora avuto modo di vedere E poi anche comunque farci una chiacchiera su questo lancio internazionale di fabula Prima che ce lo chiediate, sì, fabula uscirà anche in altre lingue Faremo l'annuncio delle altre lingue quando gli editori partner faranno l'annuncio a loro volta Non ci sembra corretto fare l'annuncio prima di loro ovviamente Ma adesso ho anche berciato abbastanza, faccio subito entrare Ema Così almeno può berciare un po' anche lui Berciare in maniera molto contenuta Oh, mi abbasso anche Aspetta che sembra abbronzato così Fatemi invece fare la mia vera faccia cadaverica Oh, la bianco, questo bianco morto Oggi non ho un cappello Oggi mi sono dedicato a casa il cappello Una roba allucinante Io invece ho la sciarpina Emanuele è una sciarpa in casa Sì, è una sciarpa in casa perché la mia gola sta... Credo che l'evento di domenica mi abbia attaccato qualche cosina Ma tu ti rendi conto il freddo babbuino porco che fa S Sommato soprattutto al fatto che andremo al mio quarantese O quindi usciremo a petto nudo dopo Sì, sì, ma il problema è che io domenica ho sudato e poi ho avuto freddo Ah, ecco Quindi, sai... Esatto, ho trovato un accessorio Purtroppo non mi conferisce immunità ad avvelenato Ciao ragazzi, vi stiamo proiettando nel nostro centro diurno Perché i nostri minori non ne hanno mai a sufficienza di fabula Potete stimare fino alle 19 così svango il turno facile facile Gizziwizzi, questo significa che non dovrei dire parolacce No, è d'accordo, grazie di avercelo detto No, ma sarà... sarà impossibile Sarà... nel senso... Cioè, se io avessi l'assidome di Tourette Se mi venisse fuori le persone non se ne accorgerebbero probabilmente Quindi... Ups Gizziwizzi, hai tipo un minuto di tempo circa Di convenevole ancora in cui puoi ragionare sulle tue scelte Tutto dipende, allora, a tuo rischio è pericolo Poi dipende da che cosa le boiate che scrivo in chat Perché io posso... posso trattenermi Però dopo ogni tanto vedo cagate E quindi... nel senso... non ce la faccio Quanti rischi mi sono perso Vabbè, con le parolacce i ragazzi si divertono Se ho capito, però non è liberi Ah, ok, perfetto Vabbè, a posto Ciao a tutte e a tutti Comunque ben benvenuti e bentrovati Allora... Ebbene, non mi ricordo un cazzo Che cosa dobbiamo parlare oggi? Dovremmo parlare di... Cioè, tu hai scritto le peculiarità Ah, giusto, è giusto Ma la verità è che... Perché mi hai passato un file da 141 pagine, Emanuele Galletto? Perché... Perché i materiali di playtest sono una dose importante Ciao ragazzuoli, ciao Lello Tanto Bello E conta che ho già riassunto Lello Tanto Bello comunque è un nickname importante È un nickname fantastico Mi ha fatto proprio ridere Sono stecchissimo E' autostima Ah, tra parentesi Voglio fare un ringraziamento particolare a Lupo Samba E ce l'ho giù Lupo Samba mi ha regalato la figata astrale Perché mi ha regalato quello che si chiama Un vecchio portrait di Fav, di Ryza Che visto così non si capisce In realtà se ci metti la luce dietro Proietta Ryza in tutti i dettagli È una roba da fuori in testa Grazie Grazie veramente Black Grazie, grazie mille Ho visto le foto sia illuminato che non Simo Gegi ha più difficoltà di me a scrivere Perché l'Atlanta è nata una festa e l'ha già là Là, là, là Simo sta più o meno come noi stamattina Abbiamo anche una preview dello stand di Luca Comis & Games La figata, sì C'è l'allestitore quest'anno Mica cazzi Chris fa una domanda a cui non avevo pensato Quando uscirà l'Atlanta il materiale di playtest si ridurrà Eh sì, quelle cose che sono uscite Penso che l'inglese lo manterrò Perché altrimenti è la volta che gli inglesi mi pelano Se glieli faccio sparire in anticipo Però sì, l'italiano La versione finale di quella roba Sarà nel prodotto pubblicato Mentre invece il materiale di playtest Futuro Simo Gegi dice Ho appena finito di lavorare Quattro ore di fila a scuola Sono un po' stanchino Io sto lavorando da un mese e mezzo E non rompo i coglioni Simo Gegi Ma povero No, no, bisogna dire cose come stanno Cioè Cioè Boh, qua Allora Peculiarità Ema di Mila Pagia Anche se vanno avanti Sono 140 Sono quasi all'inizio La 14 Beh, con l'italiano Ah sì, ho scrollato a caso E mi si è aperta davanti la pagina Ah, vedi che era a destino Dicomi, piace molto il tuo ciondolo Il mio ciondolo È un furto Nel senso Olivia Alla fiera Alla moda della nerd È scomparsa Che padre modello che sono È scomparsa Ed è tornata con sto ciondolo in mano Ma papà, papà E per te Visto che ho capito che l'ha fatto in modalità Lupin Ho iniziato ad andare in cielo per i stand Chi ha preso questo? È tuo questo È tuo questo Finché ho trovato chi lo vendeva E glielo ho comprato Ho detto scusami È falsissima L'abbia vista Ma sapevamo che era tua figlia E faccio Vabbè bene Quindi c'è nel senso Vabbè a posto Sì sì Molto bello Sì, molto sveglucicato Un di dieci Grazie Lello Tanto Bello Io ti amo C'è nel senso Grazie per il sub C'è Lello Tanto Bello Ha vinto su tutto Si è abbonato a Livello Che fa ulteriormente rima tra l'altro A proposito Dico quella cosa di cui ti avevo chiesto Mi sa che riesco Evidentemente a farla per Luca Ah Sì giusto Ok Chris mi ricordo perfettamente Cosa mi avevi chiesto Aspetta che sto tirando intuizione Per vedere se bleffa No no Aspetta vado a vedere la chat Cazzo mi hai chiesto Allora vado su Chris Cosa mi ha chiesto Chris Gli ho scritto Sì certo Chris Ma la roba di Ma la sessione No 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 prima Ah ne voglio una copia No La statuetta Se è la statuetta Vediamo se è la statuetta Sì quella Ovvio Ovvio che la voglio Che discorsi Cioè nel senso Vuoi una birra No Cioè nel senso È una domanda È una domanda rettonica Cioè No no Allora io e i miei amici Stiamo aspettando Luca Per vedere fallout E fare una cosa carina Su youtube Solo per te Ricola Grazie Lello Tanto Bello E anche al gruppo di Lello Tanto Bello Che si chiama Il gruppino Tanto Carino Però questa cosa è canonica ormai Cioè Non se ne esce Lello Tanto Bello Mi sta spaccando Scusa Adesso si vede che sono stanco Sì no esatto Comunque sì La cosa è che Credo che l'ultimo aggiornamento O meglio L'ultima live Dove abbiamo parlato Della roba di playtest È quando tu l'hai fatto Per conto tuo Quando io ero in Sicilia Da allora è passato Un po' di tempo Perché era tipo giugno Quando sei tornato croccante Quando sono tornato croccante E quindi sì Sono successe un po' di cose Sono due aggiornamenti in totale Partiamo con un po' di robina nuova Beh no Allora scusami Scusami Prima di tutto Scusami è brutto Stronzo Ma c'è una cosa più importante Da dire Siamo in finale Nel gioco nuovo dell'anno Ah quello Ah beh sì è vero In effetti Ma come A parte che sei storto Sto impazzendo Sto cercando Ho la cam che non collabora Mi sa che dopo c'è Boh Una donna con la sciarpa Non riesco a vedere Allora Sì quella roba Ah sì quella roba Sì Siamo in finale Con degli altri quattro titoloni Devo dire E vince Green Ox Esatto Non potrà mai vincere Green Ox È ovvio che non potrà mai vincere Green Ox No no Deve vincere Green Ox Deve vincere Fabula Stai scherzando? No scherzi a parte Ragazzi Ma ve lo dico proprio Fuori dei denti Per onanismo personale Da editore Sarebbe bellissimo Vincere con Fabula Ma per il fatto Non tanto Perché allora Scherzi a parte Non è che Questa cosa qua Ci permetterebbe Di aumentare le vendite O cose del genere Perché Fabula Siamo alla Terza Quarta ristampa Ormai non perso anche il conto Terza ristampa Quindi quarta tiratura Quindi Cioè Sta vendendo molto molto bene Più che altro Perché nel 2017 Abbiamo lanciato Lead Games Abbiamo fatto il nostro Primo gioco Importato La prima localizzazione Che è stato Seven Sea Abbiamo iscritto il gioco Di nuovo dell'anno E abbiamo vinto Sarebbe bellissimo Da un punto di vista Personale Soddisfazione personale Soddisfazione Da editore Che il nostro Primo gioco originale Vincesse il gioco Di nuovo dell'anno E potrebbe essere Molto utile Per l'estero Questo qua si Perché abbiamo già visto Lio Gioco Awards Vincere Luca Comis In Games È molto conosciuto All'estero Quello si Sarebbe Sarebbe Ah si è vero E ma te lo dico già È che se vinciavo Ti devo baciare in bocca Perché è un'introduzione In games C'è il bacio In mondo visione Di cosa Quindi va bene Va bene Tanto come si dice Un limone Non si nega a nessuno No esatto Bravo Mi piace Già mi piace Mi auguro solo Di non avere più Il mal di goda Se no ti attacco pure Ah ma guarda Per attaccarmi anche l'ebola Per quel che mi riguarda Sì no esatto Cioè a vicenda Ci contrastiamo Come livello di solito Vorrei ricordarti La frase che ti aveva detto Galletto E si Galletto è Mulari Il buon barchino Sì no ricordo Perdonami Perdonami Emanuele Ma praticamente Madonna Non possiamo dirlo Ma Grandi momenti Stavo Stavo per morire Stavo per morire Al sushi Madonna mia Con una naturalezza È quello È quello Che mi ha fatto morire Perdonami Emanuele Ma Ci chiedono Se è stata fatta La puntata di waifu Con il rosso Certo Ma Ah no 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 C'è il rosso Che ha un ruolo Una waifu A fabula ultima In realtà La cosa di Luca Sta raggiungendo Sta raggiungendo Dei livelli Di meme Incredibili Cioè Mochi Che fa il cosplay Del personaggio Del rosso È qualcosa di Sì Una roba di Allucina Cioè Per me Tra l'altro Chiaramente è una giocatrice Molto migliore del rosso Sì 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 Grazie 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 Mattia Per Per la Resub Grazie mille Allora Esiste un video in cui Nicola Baccia Baccia Sì Sì Ve l'ho detto Che è stato Andato in Bodo Visione Pensavo Le vincere con Famo In realtà Vicente con Mr. Maid Non Vistress No Domandate Allora Allora Sono sincero Pensavamo di Iscriverlo Però Sarebbe stata una trollata Devastante Cioè Quindi abbiamo detto No Vabbè Tutto Quanto Ma no Maid Ha vinto Nel nostro Cuore Esatto Adesso abbiamo fatto Anche l'inglese Per essere Molto figo Furto Spirituale Cosa Cosa ne pensate Nei giochi esclusi Ovviamente sono competitor Ma quest'anno I giochi Belli Non vede tantissimi Guarda Posso dire A me dei competitor Non interessa C'è nel senso Io parlo di tutti I giochi di ruolo Il mercato È uno Come qualsiasi cosa Prima o poi Si passa da un gioco All'altro Io stesso gioco Un gioco di competitor Io vi limito a dire Che non vorrei Essere nei panni Della giuria Quest'anno Perché è molto difficile Cominciare Per dirvi ragazzi Panini Panini Aveva candidato Un gioco In cui noi L'abbiamo fatto A quattro anni Con noi Che è Nakajar C'era anche Trincea di Elios C'è stato Cotra C'era veramente Mille anni da vampiro Che è un altro titolo Sono stati tanti 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 bei giochi Sinceramente Vi dico la verità Non ho mai capito Come funzionano Le votazioni Della giuria Non mi pongo neanche Più il problema Abbiamo una cosa Che abbiamo deciso Perché molte persone Ci hanno chiesto Perché non avete Candidato ad esempio L'Unico Anello C'è L'Unico Anello Era un altro giocone Perché ci piacerebbe Da quest'anno Candidare Sono giochi originali nostri Quindi tipo prossimo giro Ttg Sì prossimo giro Ttg Ma questo perché Perché in caso di vittoria O nomination Sono cose splendibili Per le localizzazioni estere Cioè tu Facciamo un esempio Sei nominato Dove si ammettere Che ha vinto Io gioco Award E al momento Ed è stato nominato In finale Luca Comis & Games 2022 E sono dei Cos Delle Delle Medaglie Passatevi il termine Che si possono mettere In presentazione Quando vai a presentare i giochi Agli editori Sì sì o anche in futuro Se uno dovesse Ne fare un crowdfunding Tutta rap Che ti puoi spendere Esatto Cioè Assolutamente Ma fatelo giocare Paolo Ma è lo stesso Previo che anni fa Visse Housel Sì 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 ma smettiti di scrivere Per cortesia Cioè Oggi si muove Le dita ti tradiscono Sì sì infatti Fai più bella figura Cioè nel senso È la cosa migliore Comunque Qui apriamo In discussione Su come è strutturato Il gioco No appunto Non è la location Bravo Bravo Svini Bravo che ti autocontieni Si vedi che non fai parte Da tanti anni Della community italiana Del Perché voi vi siete scavati Tutta il tradizionale Contro i Forge Contro gli Indie Il The Forge Voi non sapete nulla Cioè voi Continuate a vivere Dall'ignoranza Che è meglio Cioè perché Rereferetevi Come si scegliono I giochi candidati A gioco di ruolo Ne avrebbe più di una Penso Alfredo Alfredo Comunque Tornando a noi Eh Nicola Gli straordinari Di Monster Maiden Me Eh Beh io lì Solo che do Advance Per le bestemmie Intanto Allora Torniamo a noi Esatto Torniamo a noi E torniamo a Le peculiarità Natural Fantasy Che lascerò Avendo io la gola Che sta morendo Lascerò principalmente Esplorare a te E poi subentro Se ci sono Dei dubbi O delle curiosità Allora Noi abbiamo già visto Le peculiarità Delle Fantasy Me le beccate anche Delle Fantasy Via quindi Si sboccia Luca Quest'anno no L'Aloe Sicuramente Sarà abbastanza Superstiziosa Queste cose qua Finchè non ricevo il premio Non sboccio nulla Esatto Comunque no Sbocciamo Perché Saranno soddisfazioni Esce L'Atlanta È in fantasy Esatto Cioè comunque Come diciamo Comunque vada Sarà un successo No come si suol dire Ok Ti direi Come al solito Di Di zoomare Un pelo Danna mia che rompi i coglioni Che sto utilizzando È vero Terribile Cioè neanche col mal di gola Sto zitto Infatti Allora oggi vediamo Le peculiarità Buon pranzo Oli Rocks Buon pranzo Allora Peculiarità Natural Fantasy Si sapete che le peculiarità Sono quelle cose Che possono scegliere tutti I PG all'inizio Del gioco Si sceglie solo Una peculiarità Ricordiamoci questo Perché più di una volta Mi è stato chiesto Marco Bosni ha 20 mesi Grande Marco Grazie Ma questo canale Esiste da 20 mesi Esiste da febbraio 2020 Mamma mia 2021 Ah ok Sì 2021 Beh sta qua è tipo La 52 La 53 Sì 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 È un botto Che facciamo sta cosa Mi chiedo Quanto cazzo Di nuovo dobbiamo parlare Perché poi Toccherà farlo anche Di Slice of Life Toccherà farlo Di qualsiasi altro progetto Ci sarà Quell'altra cosa Di fabula Ci sarà un botto Vi è male Beh Nel senso Però è divertente Funziona E abbiamo direttamente Un feedback Con la community No molto Questa cosa è oro Sì adesso Mi state a fare Il Terror Trang Giovedì Io ho visto Lui mi chiederò Quando avremo 10 giochi originali Che cazzo faccio Adesso tra l'altro Sarà il pomeriggio Allora sì Tranne domani Perché domani Mi è venuto Un impegno personale Alle 5 Anzi lo dico già Scusatemi ragazzi Dopo vedremo Il da farsi O lo fa Matteo Domani pomeriggio Perché purtroppo Mi è venuto Sia oggi che domani Devo essere A casa alle 5 E quindi Domani Non lo potrò Non lo potrò fare Invece domani Sono Sempre a questo Loco di pranzo Da Morgengabe A fare una creazione Del mondo di fabula Se uno vuole E stasera sono da loro A giocare Monster Made Mistress Insieme a Alessia E a Oz Quindi Se volete Potete vederci Fare le cringiate Sempre che la mia gola Sopravviva Potete vederci fare Le cringiate Mi si è Aspetta E ma scusami Prendi un attimo la parola Che mi si è arrivata Una telefonata E vorrei che fosse Lo spedizioniere Scusami Devo rispondere Esattamente Allora Intanto vi introduco Che come al solito Le peculiarità Hanno delle Hanno delle Sovrapposizioni Nel senso che Ad esempio Arboreo Che vedete già qua Nell'immagine È una peculiarità Che c'è già Nella E Scusami Quello che cambia Come succede spesso È che cambiano Le frasi O le domande Anche se in realtà Nel caso di Arboreo Siamo praticamente uguali E poi ci sono delle novità Tipo Arma antica Allora Sì vabbè ma tu hai saltato Tutta la prima pasina Se facciamo una roba alla volta Ma sempre lei Ma secondo te Se ricordano questi imbecilli Cose sono le peculiarità Non so ricordano assolutamente Adesso Guarda faccio così Adesso guarda Io adesso Adesso c'è così Vedi Va bene Allora adesso Mi scrivete in chat Cosa sono le peculiarità E a cosa servono Allora Avevo detto che c'era l'interrogazione Adesso voglio vedere Adesso voglio vedere Perché tu Tu Cioè Tu dai troppa Pensi che siano troppo intelligenti No Cioè sono qua seduti Vogliono sentire cose da noi Dai Guarda che nessuno scrive Chris Che cosa sono le peculiarità Chris è anche il moderatore Peculiare Ecco dai L'arriva Chris sei anche Le peculiarità sono i rasti fabula Vabbè Marco Va a fanculo Io non ho capito la domanda Vabbè Ergut Tu non c'è nel senso Guarda Guarda nessuno Che risponde Ciò che rende il personaggio unico Nella sua esistenza Non è male Allora Simo Hai scritto quattro cose E hai fatto quattro errori Cioè O ti amputi le dita E scrivi col naso Oppure Cioè Però è che hai scritto una cazzata Perché è facile Cos'è fabula? È un gioco di ruolo E grazie al cazzo C'è nel senso Per cortesia Sono ciò che ti permette Di essere un buco Per me la cipolla Per il momento È la più attinente Tra le risposte Prof Non ho avuto tempo Per studiare Il mio cagnolino È stato male Sono caratteristiche Uniche Che vanno a caratterizzare Il personaggio Di dare capacità uniche Ok Va bene Comunque sì Come al solito Sono cose speciali Che dovrebbe avere Solo quel personaggio E che non servono A diventare le reginette Della scena Ma a portare in ballo Delle tematiche Con meccaniche Particolari Ok Possiamo andare avanti Grazie Nile Per farmi crescere E credere ancora un po' In questo mondo Sono sorti Background Al quale si ottengono benefici Non sono per forza Background Però Però Allora Cosa sono le peculiarità? Ergut Non ha neanche capito La risposta Quindi siamo a posto Bene Comunque sì Il fondamento È sempre lo stesso Sono una regola Opzionale avanzata Che offre un approfondimento Tematico E meccanico Per i personaggi giocanti Le peculiarità In queste pagine Sono state scritte Con in mente Una campagna Dei tori Natural Fantasy Ok Posso essere usato ovunque Sti cazzi Va bene Allora Un personaggio Le sceglie solo una 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 sola Tutti Tutti È giusto Tutti è giusto che la usino Perché se no Ci possono essere un po' Di casini Se ne usa solo qualcuno E le altre no Una cosa Il consiglio anche magari Di avere peculiarità diverse Tra personaggi Cioè È più È più interessante La stessa È molto difficile Che funzioni E ricordatevi poi Che le peculiarità Che scegliete Serviranno tantissimo Al master Per la campagna Che andate a fare O per come voi ruolerete E interpreterete I vostri personaggi Ok Cioè Usatele Ma c'è Dovresti usare peculiarità Per C'è anche scritto Non voglio neanche visto Scusa Stavo per fare un esempio Per Portare il gioco In situazioni interessanti Mettere il personaggio In condizioni Di affrontare problematiche Fuori dal comune Fornire supporto Meccanico e trattiche Scelto per il tuo personaggio Non dovresti usare Proprio carità Per Rendere il tuo personaggio Super Uber Essere sempre Sotto lo spotlight Portare il gioco Tematiche Che mettono a disagio Le altre persone al tavolo A parte questo Significa essere Giocatori normali E non dei pezzi di merda Eh ma sì Come dicevi tu prima Bisogna sempre ricordarle Esatto Infatti c'è questo Mi piace Allora Iniziamo a vederle Arborio Come diceva prima Ema L'Arborio Oh ciao Azza Grazie Azza Per il ride Grazie Grazie infinite Ragazzi Ragazze che siete arrivate qua Ad Azza Stiamo vedendo Le peculiarità Natural fantasy Di fabula ultima Un gioco di ruolo Ispirato ai JRPG Allora Arborio Arborio è una peculiarità Che esiste anche Nell'Atalanta High fantasy Qua però È ovviamente Pensato per il Natural fantasy Un setting Natural fantasy Vorrei fare una piccola Premessa Questa è importante Allora Il setting Natural fantasy È tanto Diverso Dallo setting High fantasy Ok Ma tanto Diverso Vi faccio Un esempio Classico Tutti quanti Magari molti di voi Non hanno giocato ai JRPG Ma tutti quanti Conoscono bene I film dello studio Ghibli Principessa Mononoke È un perfetto Esempio Di natural fantasy Ci sono I kami In giro Ci sono Le divinità Delle foreste I Kodama Scusami I Kodama Ci sono i Kodama E via dicendo È molto spesso È molto bello Se i personaggi Vengono O dallo stesso villaggio O da villaggi limitrofi La magia Magari è solo Orale Le campagne Natural fantasy Che ho fatto Sono state molto L'estate Sul viaggio E se c'è il troppo Che nell'i fantasy C'è l'impero Tra virgolette Magitech E il regno Diciamo I fantasy Super Super magico Nel natural fantasy Molto spesso Le problematiche Che non so I kami Si incazzano Sono corrotti La natura Sta diventando Più cupo E oscura Molto spesso Si troveranno Delle rovine Del passato Che stanno Con la tecnologica Vi dicendo Che stanno infettando Le rovine moderne In termini di videogiochi Nell'ultimo periodo Ho lavorato molto Sul cercare Degli riferimenti Recenti E facili da recuperare Per il natural E mi sento Di dire I giochi Della serie Etrian Odyssey Per molti versi Hanno degli elementi natural Il grande plot twist Di Etrian Odyssey Poi Vabbè Spoiler Per Etrian Odyssey E il nostro mondo Nel futuro Alla fine del labirinto Ci sono le rovine Delle città contemporanee E Un'altra cosa Che secondo me Si presta molto È Monster Hunter Stories Attenzione Non Monster Hunter Monster Hunter Stories Dove hai il rapporto Con L'animale Il mostro La creatura Che viene gestito In una maniera Molto meno Picchia E Crafta È molto più legata Effettivamente A relazionarsi Con queste creature Ragazzi Poco è un Archeus C'è anche Molto Molto E Chris giustamente Chiama in ballo Ryutama Secondo me Una cosa importante È distinguere Tra Ryutama E Fabula Anche per Non pestarsi i piedi Che Ryutama Parla di Piccole storie Di piccole persone Molto vita quotidiana Conflitti bassi Mentre Fabula Anche nel Natural Comunque Parla ancora Di situazioni Catastrofiche E personaggi Eroici Quindi Diciamo che Hai magari Io ho un esempio classico Che faccio Che mi piace molto Preso da Monster Hunter È il concetto Del Fatalis Cioè il fatto Che ci sia Questa entità Che in realtà È l'incarnazione Di uno spirito Di vendetta Di una specie estinta E non è una cosa Che in realtà È collegata direttamente Alle azioni dei PG Ma è più una sorta Di evento Catastrofico Imprescindibile Ciclico Che tu ti trovi Ad affrontare E molto spesso I personaggi Hanno ignoranza Su queste cose Cioè Anche il personaggio Sapiente In un Natural Fantasy Ha di solito Dei limiti Alle cose che conosce Poi ci sono Come diceva Nico Le rovine del Del popolo antico In questo Laputa Sempre dello studio Ghibli O Anche Made in Abyss Non il lato truculento Ma come funziona L'idea dell'abisso Con la città sopra Si può Si può prestare Per un'ispirazione Diciamo Di estetica Anche delle creature Dei mostri La maledizione magica Certo A differenza di Made in Abyss Non c'è Tutto l'elemento di gore Che invece lì è dominante Micchia Cioè Ma ragazzi Molto Più semplicemente Cioè Io spero Spero Perché se no posso insultarvi Che conosciate Che cos'è Almeno La Mana series Secret of Mana Legend of Mana Trials of Mana E via dicendo Quello è super Natural Fantasy Un'altra cosa Che ha degli elementi A cavallo Tra il natural E un pochino Del techno Ma più del natural Per me E wild arts Si Cioè il fatto che le pistole Sono questa antica roba Perduta Tanto vi ricordiamo Il grande arcano Di Fabula Ultima Non sai che campagna Stai giocando Finché non hai giocato Stai giocando In Sentesi Esatto Quando giochi L'ultima sessione Allora sai Sai qual è la campagna Che hai fatto Quindi ricordatevi Che poi ci sta E di dire No no raga Definiamo dei punti E stiamoci dentro E facciamo questo stile Secondo me è anche bello Però di base Non va vissuto Come una costrizione Cioè Giocate e basta Esatto Poi vedete che cosa Abbiamo fuori Allora Arboros È una creatura vegetale Essenziente È simile di intelletto Un'umanoide Appartiene ad una specie Particolare Oppure sei unico Del tuo genere Come funziona Il tuo ciclo Evitare Somigliano Un certo tipo di pianta Fiore o albero Questa è molto classica È sempre lei Ti concede le cose Da pianta E un incantesimo Che costa di meno Se sei alla luce del sole Scegli uno status Sei immune Allo status scelto Tuttavia sei vulnerabile Un tipo di dada La tua scelta Mi piace molto Che se scegli magari Un Appunto Una specie di grut Magari sarai Immune a furente Ma sarai Vulnerabile a fuoco Impari anche Un incantesimo Da PNG È stato già per dire Devastazione Non puoi scegliere Devastazione Beh comunque ce ne sono Dirotti Anche senza Devastazione Quando ti sei battuto Un'arma simile Alla tua E chi la brandiva Faccio una premessa Se qualcuno ha giocato Breath of the Wild Zelda Breath of the Wild È Super Natural Fantasy Super Super Natural Fantasy L'esplorazione Per me L'esplorazione L'ambiente Sì la storia Io sto pensando Che tu vai in giro A esplorare A fare le cose Proprio è natural C'è in giro A farmare Che scopri i villaggi Scopri le cose Parli con le persone autoctore Ecco Una cosa particolare Del natural È che di solito Comunemente C'è meno sensazione Di pressione Nel senso Di situazioni ostili Ovunque Dal punto di vista Politico e sociale Come c'è Magari nel Live O nel Tecno Ma Non è raro Che ci sia invece Un conto alla rovescia Di qualche tipo Proprio legato A una catastrofe incombente O cose di questo genere Cioè la pressione A volte Sull'intera campagna Proprio Ergut Vabbè Io non Non voglio commentare Cioè Io non so più Come insultarti No esatto Teniamo un minimo Di contenio Io non so più Come insultarti Allora Arma antica Fondamentalmente È la classica arma Che avrà un'importanza Fondamentale Nel corso della storia Quest'amore Un aspetto Particolamente Insolito E tecnologico Potrebbe essere Una buona idea Rendere un'arma Della categoria Da fuoco E far sì Che l'ambientazione Di questo progetto Sia rarissimo E misterioso Una volta Per sessione Circa 4 ore Di gioco Al che massimo Darti un punto Famola Per introdurre Complicazioni Inaspettate Tutta la natura Particolare Dell'arma Per esempio Stati macchinari Che raggiscono La sua presenza Oppure Tuttavia L'arma Non può Essere distrutta Danneggiata Sbarrita Rubata Senza Consenso Il giocatore Qui si va Abbastanza Chiaro Sì Questa è molto Classica Forse La cosa più Interessante Di questa qua E rispondere Alla domanda Di chi ha Un'arma Simile Alla tua Perché magari Puoi delineare Un antagonista Che usa Quel tipo Di tecnologia In un modo Radicalmente Opposto Al tuo Allora Belva Parlante Questa è La stessa Del tecno Ma La sua Descrizione Cambia Molto Allora Appartiene A una stirpe Di animali magici Che hanno protetto I villaggi umani Nel corso Dei secoli Oggigiorno Però L'umanità Ha dimenticato Il vostro ruolo Dove si trova La tua tara O nido Conosci I tuoi simili Ancora in vita Chi tra gli altri Personaggi giocanti Ha mostrato curiosità O rispetto Verso la tua natura Non puoi Equipaggiare Alcun oggetto Eccetto Gli accessori Tuttavia Ottieni un bonus Per momento Di più 2 La tua divese Di più 2 La tua difesa magica E' sgravissimo Ottieni anche Due benefici A tua scelta Tra i seguenti Puoi equipaggiare Armi personalizzate Impari Un incantesimo Una png Personalizzano Come indicato Scende un nome Tipo di danno Status Eccetera I tuoi attacchi Con i colpi Senza armi Infliggono 6 danni extra Cioè Fatelo furia Questa montare Omentri 10 danni extra E 6 di livello 30 o superiore Anche questo qua E' molto semplice Se volete giocare Un Totoro Faccio un esempio Potete fare Sì io Questa qua Ammetto che pensavo A Okami Di videogioco Quando la pensavo Però Cioè Potete inventarvi Qualsiasi cosa Cioè Ad esempio Che aveva fatto Il Cavaliere Scarabeo Ve lo ricordate Mi era piaciuto tantissimo Il Cavaliere Scarabeo E' bellissimo Che si inventava E si era inventato Che usava Il suo cordo Come spada E il guscio E come scudo Cioè Tipo come fosse staccabile Era bellissimo Come idea Buono scopo Di un vulcano Dormiente Natural fantasy No è morte E' distruzione Folletto Esule Un tempo Vivi con i tuoi simili Nel regno delle fate A stretto contatto Con il flusso Delle anime Ma non mi fa ritorno Da molto tempo Cosa è andato storto In che condizioni Il regno delle fate Al momento Chi lo governa Ecco Cioè Se avete giocato Bravely Default Non è quel tipo di Se avete giocato Bravely Default 2 Può essere quel tipo di Spoiler Di Bravely Default 2 Se avete giocato Bravely Default O Bravely Second Non è Le fate Bisogna bruciarle A vista Sei in grado Di comunicare verbalmente Con qualsiasi creatura Della specie bestia Elementale E pianta Cioè Quindi già questo In un natural fantasy Sì che puoi parlare con tutti Chiedere informazione A tutta la fornita Ad ogni ambiente Cioè Qualsiasi cosa Esatto Non i mostri A differenza del chimerista Gli elementali Ma non i mostri Apprendi un incantissimo A tua scena Da quelli contenuti Delle liste Delle classi Elementalista Intropista Spiritista E manuale base Inoltre Tieni la capacità Di eseguire rituali In cui effetti Di tradizioni del ritualismo E puoi utilizzarli Per trasportare creature Dentro e fuori Dal regno delle fate Cioè già questo È bellissimo Cioè bellissimo Tuttavia Possiedi una particolare Debolezza Tipica delle fate Decidere insieme Al resto del gruppo Una volta per sessione Che basta Per darti un punto famo Una solita cosa Per fare Per complicazione O farti fallire Automaticamente Un test Prima che tu tiri Esempi Sei allergico al ferro Sei costretto A contare Tutti i gradi di sabbia O sale versati E la madonna Se diventi una sabbia Sei fottuto Cioè Se vedi una spiaggia E basta E la fine E se vedi qualcuno Eseguire un cerco gesto E l'eseguirà anche tu Madonna Questa è la cosa Dei K Che devono inchinarsi Quando tu ti inchini Potrei giocare Un personaggio Veramente Veramente È molto divertente Da giocare A giocare E poi c'è Il mio preferito Vabbè Questa è totale Fratellore Questa è totale I tuoi compagni Di viaggio Sanno di poter contare Su di te Quando è il momento Di accamparsi E trarre il massimo Dei preziosi attivi Di riposo Che vi concede La vostra avventura Chi ti ha insegnato Per dirti cura Degli altri Tra gli altri Personaggi giocanti C'è qualcuno Che vedi come un fratello O una sorella minore Quale promessa speciale Hai fatto a questo personaggio Se questo personaggio Non si sacrifica Nella campagna State sbagliando qualcosa Sì Quindi è proprio tipo Se la tua campagna Nel tuo gruppo Non fa uso Delle corrupzioni All'attività da campo Il tuo personaggio Abbia comunque accesso Il tuo personaggio Ha accesso A tre attività da campo Anziché soltanto due Se il tuo personaggio Tiene questa peculiarità Nel corso di una campagna Che fa già uso Delle attività da campo Semplicemente Terrà l'accesso A una singola nuova Attività da campo A tua scelta Visto che c'è l'opzione A volte di perdere E guadagnare peculiarità Per dei motivi Non ne guadagni tre in più Ne guadagni una Quando scegli di svolgere Attività da campo Durante il tuo riposo Scegli un'opzione Svolgi due attività da campo Diverse I cui effetti Non possono essere applicati Alla medesima creatura Oppure svolgi due volte Alla medesima attività da campo Applicando degli effetti Di due creature differenti Le attività da campo Sono un'altra cosa Che non abbiamo ancora visto In live Ma che consentono Sostanzialmente Durante i riposi Di ottenere un effetto Spendibile Una volta Prima della prossima Guardiamola Scusa Guardiamola adesso Sono già qui dentro Le attività da campo Sì sì assolutamente Qui dice la pagina Che non mi ricordo assolutamente Certo Le attività da campo Si trovano a 42 La risposta era ovviamente 42 Attività da campo Ah c'è anche l'immagine Della cuoca Che top Le attività da campo Le attività da campo Le attività da campo Le attività da campo Come ha riassunto poco fa Ema sono fondamentalmente Quando ti riposi Fai qualcosa Cioè non è il meno Andiamo a dormire No fai qualcosa Se vi accampate Considerate che Una cosa molto bella Del Un consiglio che vi do Se giocate attività E scusatemi Campagne Natural fantasy E siate ancora più liberi Delle altre tipologie di campagne Cioè fondamentalmente Andate alla scoperta Di questo mondo vasto Fate utilizzare Una sbrega Riputifabula Ai giocatori E inserite rovine Inserite dagio Dentro le rovine Cioè godetevi il viaggio Sì è un mondo Molto stratificato Molto ricco di roba Poi magari ci sono Dei 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 boss Cioè non riesco niente A chiamare i cattivi Del natural fantasy Dei boss Che vi fanno dire Che c'è qualche divinità Qualche divinità Che si sta risvegliando Sono più Sono più Come direi Mostri infamous Esatto Nel senso Sono cattivi minori Che sono semplicemente Mostri molto 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 potenti Con un nome Esatto Oppure non so Vedete che Il cielo A est È diventato Totalmente cremisi Quindi ci bisogna andare a capire Cosa sta succedendo Cioè Fate un viaggio Quindi Le attività da campo Anche proprio letteralmente Il fatto di riposarsi Di accendere il falò Cioè possono essere Nei momenti di ruolo Dove si fa appunto Come diceva prima Una somma di quello Che è stato vissuto finora Dei progetti Di quello che faremo più avanti Degli incontri particolari E via dicendo Allora Se utilizzate Questo regolo opzionale Ogni personaggio giocante È accesso a due diverse Attività da campo Scelte durante la creazione Del personaggio Da lista delle prossime pagine Quando i personaggi Giocanti Giocano Una scena di riposo Il sediamento Il territorio selvaggi Chi vi partece Può svolgere Una delle attività Del campo A cui è accesso Vi ricordo Che in questo caso qua Il fratellone Ne fa due Ne fa due Esatto Ed è accesso a tre Quindi le sceglie Esatto Ciascun personaggio Può scegliere Come utilizzare La scena di riposo In maniera indipendente Dagli altri Facciamo un esempio La cosa migliore Mi leggiamo un esempio Brandon, Marta e Ilua Si fermano a riposare In città Pagando 20 zeri Ciascuno Decide di giocare Una scena di riposo Nella taverna In cui sostano Brandon dorme Solli tranquilli Per ottenere Un'azione aggiuntiva In futuro Mentre Marta Prepara una doppia porzione Per Ilua Che è spesso il bersaglio Degli incantesimi Curativi del gruppo Considerata La gentilezza di Marta Ilua decide Di sfruttare Questa scena Per raccogliere Qualche ingrediente Aggiuntivo Per la cuoca Sperando di non mettersi In guai A differenza Nel primo aggiornamento In cui sono state introdotte Facevi l'attività Al posto Di aumentare i legami Questa cosa L'ho invertita Perché Se era un Punto di decisione Interessante Era molto Era molto meglio Che in base Alle cose fatte Cambiassero i legami E soprattutto C'era il rischio Che la gente Non facesse mai legami Per fare le attività Quindi Adesso Fai sia il legame Sia l'attività Basta Tenere traccia Dei benefici È una roba Molto semplice È un consiglio Di Usare magari Dei token O degli oggettini Carini Per ricordarvi Del beneficio Questa cosa Dà anche personalità Al personaggio Quindi tipo La doppia porzione Nell'esempio La persona Che controlla La cuoca Usa una spilletta A forma di torta E la dà A chi ha ricevuto Doppia porzione Oppure Semplicemente Ragazzi Scrivetevi Sul post-it La roba Sì sì L'idea lì Di avere L'oggettino È una cosa Che aumenta Il feeling Un po' così Del natural fantasy Allora Che cosa fa Quali sono le attività Da campo Allenamento Una volta Per il prossimo riposo Sei una fontessa Per infliggerti Uno più status Puoi invece decidere Di non subire Nessun Di status Cartografia Una volta Per il prossimo riposo Dopo un tiro Di viaggio Puoi ritirare il dado E tenere il nuovo risultato Perfetto Da parentesi Per il tiri viaggio Ecco ragazzi Natural fantasy Viaggi C'è il tiri viaggio Devono essere All'ordine del giorno Infatti vedrete Molte capacità Che aumentano La sopravvivenza La capacità di sopravvivenza Proprio perché L'idea è che Gli insediamenti Siano molto distanti Quindi anche Ricaricare i punti inventari Non è questa cosa Così semplice Discorso di incoraggiamento Una volta Prima del prossimo riposo Se il bersaglio Sta per recuperare Punti di mente Può raddoppiare La punti di mente Recuperato Questo qua Per Raiza Sarebbe totale No vedrai dopo Doppia porzione Stai senti Che cosa Però raddoppia L'abbonto Di punti di recuperare Notare che Quando il bersaglio È un alleato Vuol dire Non potete mai Usarlo su di voi Dovete sempre Farlo su altri Penso che sia Abbastanza chiaro Quindi No no Questo è importante Perché Potenzia il feeling Di famiglia Di squadra Di team work Perché in realtà I benefici migliori Tu li fai sugli altri Poi Esercizio marziale Una volta Nel prossimo riposo Quando esegui l'attacco Puoi conferire Multi 2 A quell'attacco Puoi conferire La possibilità Multi Di quell'attacco Di un punto Quindi se Multi 2 Puoi far Intervulti 3 Esplorazione Te stesso O un alleato Ricerca di oggetti utili Doporché Tiri un D6 Ahia Non ricopri I punti vita I punti 20 Durati in questo riposo Non proprio Quello che cercavo Il bersaglio Ricarica un punto Inventario Oh oh Può tornare utile Il bersaglio Ricarica 3 punti Inventario Jackpot Trovi zeri Pari a Il livello Del tuo personaggio Per 5 Ah Bello Ricordavo Per 5 Guardavo per 5 Guadagnerei un sacco Di zeri Sempre Se fai 6 Ma io Ho dato Di games Che mi lanciato Sul 6 Chiaro Forgia da campo Ripari Questo è molto utile Ripari Un oggetto Danneggiato Posseguito Le gruppo Spendendo Una montagna Di zeri Pari a metà Del suo lavoro Oppure Crea una singola Arma Armatura Oscuro Base La tua scelta Spendendo Una montagna In zenith Pari a Un terzo Del suo lavoro Se possibile Ti adatti Con un valore Sufficiente Per consumare Del posto Posse pagare Zenith Questa è utile Sempre per il discorso Che dicevamo Che quando sei Nel vuoto E a causa Di un'opportunità Ti si è rotta Ti si è rotta Un pezzo Di equip Questo consente Di trasformare Gli zenith In equipaggiamento Pagando un terzo Peraltro Lezioni di combattimento Dai fondamentalmente Un più quattro Al tiro per colpire Sia di un incantesimo Sia di un attacco Lezioni di magia Puoi far imparare Un incantesimo A un altro giocatore Che può usarlo Una volta Tra Questo è molto utile Tra riposo E quell'altro Tra un riposo E l'altro Massaggio Paghi un tot Di punti E di mezzi Quel costo Quindi se io dovevo Lanciare Non so Un incantesimo Posso pagare la metà Non i rituali Eh Zuzzoni Sì sì Infatti guardo Un incantesimo Allora Ore piccole Due punti progresso Per un progetto Quindi se avete Un tinker E' molto utile Stai spingendo Esatto Esatto Pianificazione Dopo che hai effettuato Un test di iniziativa Come leader O per esempio Qualcun qualcosa Poi gli aggiungi Più 4 Questo qua E' utilissimo Questo sullo studio E' tanta roba Esatto Raccolta Uno qua C'è Tiro di 6 Uno Aiuto Il tema del riposito Questo verrà coinvolto In un conflitto facile Con lo stesso livello del gruppo Chissà se vanno bene Due ingredienti A sapore causale Sembra buono Tre ingredienti A sapore causale E gourmet C'è un cuoco Perché è stato Tra le prime immagini Che abbiamo visto Esatto Vabbè lo vedrete Sogni e speranze Te stesso Quando perdi punti vita Di mezzo La perdita dei punti vita Sogni tranquilli Questa è tanta roba Per i tank Allora Una volta Per il prossimo turno Riposo Puoi eseguire Un'azione aggiuntiva Durante il tuo turno In un conflitto E' un'azione di equipaggiamento In tralcio Oppure inventario Che comunque Soprattutto inventario Per l'artefice Può voler dire Cose importanti Esatto Considerate Che comunque Potete inventarli Anche i vostri Cioè Parlate col master E decidete Di inventare Attività di campo vostri Esatto E poi C'è il suggerimento Opzioni e varianti Che secondo me E' un'idea carina Se uno volesse Potrebbe virarle Su un focus Del tipo Fare che Invece che un'attività E' un piatto specifico Quello che tu crei Tipo Come succede Molto spesso Nei videogiochi Che ogni membro Del party Può cucinare Determinate cose Monster Hunter Sei tu? Sì sì Anche Genshin Impact O Tales of Arise Sei ciò che Magino Come si suoliva Kit Esatto Anche per il simbolista E' tanta roba L'azione extra Di inventario Metti i simboli E poi dopo E' comunque un'azione Per fare cose E se sei un artefice E sei in crisi Si applica anche Oggetto d'emergenza Quindi puoi arrivare A fare tre azioni Nello stesso turno Con questa cosa Fate voi Cioè Interviene Ma uno può usare Tranquillamente Soltanto Ecco Ma tellore Sì è obbligatorio Commentare Quando si sente Scusate E qui comincia La ciccia grossa E Nico Qui ti divertirai Allora Allora Giunto Dal sottomondo Lo ricordi molto Del tuo passato Ma al tuo risveglio Ti trovavi Nelle profondità Una volta in superficie Hai compreso Di non essere Esattamente Come le altre persone Hai una familiarità Preassistiva Con la tecnologia antica Guarda un po' E possiedi una particolare Riserva di potere A cui attingere Chi è stata la prima persona Che hai incontrato Che oggetti avevi con te Hai paura Di recuperare la tua memoria Questo è per giocarsi Come che si chiama Reg Reg Di Made in Abyss Il ragazzino robot Sì 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 Oppure In Etrian Odyssey Untold Uno La Non mi ricordo mai Come si chiama Frederick Ierving Sì La ragazza Giunta dal passato Allora Quando Quella regola Che ti fa spendere Punti vita Punti venti Punti venti O dal tuo conflitto Puoi ignorare quel costo Se lo fai però Non puoi ignorare Un costo in questo modo Fino al termine Il tuo prossimo riposo Nel schermo Che proviene Questa energia intensa Ma effimera Guarda il primo esempio Sì Un gemanale Descastro Dell'occhio sinistro Caraglia Sei tu Un generatore energetico Restato nel braccio Un circuito arcano Simile un complesso Tatuaggio Inoltre Quando ti imbatti In un congelio A creature legate Alla tecnologia antica O al passato Delle rovine Poi scegli un'opzione Chiedi che il master Quale sia il suo scopo Oppure Chiedi che il master Può essere attivato Come può essere disattivato E poi il master Ti risponde E diceva la verità Dopo ricevere le risposte In questo modo Per la sesta volta Ricordi il vero motivo Perché rimasto Dormiente nel sottosuolo E il game master Scegli un'opzione Ricordi un indizio fondamentale Sulla delle minacce Presenti nel mondo di gioco Oppure ricordi L'esistenza Di una nuova minaccia E ricevi un indizio fondamentale Riguardo ad essa Questo qua È eccezionale Per mandare avanti Il gioco Questa qua È una di quelle Che io giocherai Volentieri Come peculiarità Perché mi piace Buttare sempre più Carne sul fuoco A me piace Grimorio misterioso Grimorio misterioso È Grimorio misterioso È Vabbè È una grande citazione A Atelier Sofi Ovviamente Ma in generale È la storia Del Grimorio parlante Dell'oggetto parlante Che può diventare Perché c'è scritto Grimorio misterioso E non c'è tra parentesi Emarillion Chiusa parentesi No Allora Emarillion Possiede un antico Massiccio libro magico Sulle quelle pagine Appaiono Un disegno Di un galletto No Appunti e informazioni Che ti aiutano Nelle tue avventure Dove hai trovato L'emarillion Quale personalità Gallettiara Si può intravedere Dal tono Dallo stile del testo Finché possiedi Queste peculiarità Il tuo emarillion È un artefatto Indistruttibile Che non può andare Svarito o rumato Se non come conseguenza Di una resa Quando il tuo gruppo Si imbatti In un pericolo Una scoperta Un tiro di viaggio Non so se avete notato Quante volte è presente Il viaggio Comunque Nella fantasy Puoi pure Al game master Assigli una domanda Relativa a quel pericolo Scoperta Il game master Risponde Dicendo la verità Una volta Il grimorio Ovvero l'emarillion Ha risposto A dieci domande Mi ricordo Che l'emarillion È quello che Consigli tutta la scienza Quindi questo qua È proprio l'emarillion Ti ha rivelato Quasi tutto Il suo sapere No Non è l'emarillion Scegli una Delle opzioni Descritte qui sotto Coscienza risvegliata Perdi queste peculiarità Il grimorio Si trasfoglia Un personaggio Non giocante Vabbè Qua Avere il piccolo Russa Sarebbe una roba Incredibile Ragazzi Vi spacca Crea questo Vigilissimo Restore in gruppo Dagli un nome Di scrivere D'un aspetto Non possiede un prefiro Della PNG Non partecipa attivamente A test o conflitti Ma prende un incantesimo A tua scelta Tra quelli contenuti E liste Elementalista Intropista Spiritista E manuale base Il PNG Può leggere questo incantesimo Fino a due volte Per conflitto Non al giorno Per conflitto E al termine Di quel turno Di queste persone Giocate Che lo richieda Quindi non richiede Neanche un'azione Cioè Oddio ragazzi Mi serve un cure Oh io non ho i piedi Esatto Russa Non richiede Intimente E se per caso C'è il test di magia È un 2 di 10 Che quindi Non fa neanche schifo Magia nascosta Perdi questa peculiarità Perdi questa peculiarità Ma il tuo gremorio Può ancora rivelarti Un ultimo E potentissimo segreto Ottieni un'abilità eroica A tua scelta Tra cometa Incantesimi aggiuntivi Speranza E vulcano Rometa Poi le bariglione Poi vabbè A te piacerà Il testo evidenziato Esatto Potete sfruttare Questa peculiarità Per introdurre nel vostro gruppo Un nuovo personaggio giocante E rispettivo giocatore Anziché creare un PNG In questo caso Il personaggio che ha Assezionato questa peculiarità Dovrebbe ottenere I benefici Di scritti La magia nascosta Anziché quelli Di scritti La coscienza risvegliata Tra le peculiarità Consigliate Per un personaggio giocante Introdurre in questo modo Ci sono Armoreo Belva parlante Robo E un lungo sogno Qualunque sia la tua scelta Torna a essere Un normalissimo libro E il Game Master C'è un'opzione Fornisce un indizio fondamentale Su una delle minacce Presente nel mondo Oppure Rivela l'inizio Una nuova minacce E fornisce un indizio fondamentale Riguardo a essi Laboratorio itinerante Possiede un mezzo di trasporto Che fugge anche Da bottega e laboratorio Guarda Stiamo perfetto Per Il mio cuoco Il mio gourmet pilota È vero È vero Sarebbe perfetto Veramente Per il mio gourmet pilota Come l'hai ottenuto In che modo si sposta Da dove viene la sua energia Quali caratteristiche Lo rende inconfondibile In genere Come reagisce la gente Al suo passaggio Puoi scegliere queste peculiarità Soltanto se il tuo personaggio Possiede uno o più classi Tra artefice e gourmet Ottieni un veicolo terrestre Grande abbastanza Ah sì perché Scusatemi Ci sono nuove regole Anche per i veicoli Però Ne parleremo in un'altra live Grande abbastanza A contenere te Il tuo gruppo Più due o tre ospiti Scegli un progetto Richiede un ingrediente In materia speciale Puoi spendere un punto Fabola Per trovare qualcosa di simile Nel tuo laboratorio L'azione deve avere Un terribile difetto Questo qua è per giocarsi Tipo il castellorrante di Aul Esattamente Molto figo ragazzi Ragazzi Cioè Molto molto figo Maledetto Questa è la stessa Dell'Aig Fantasy Ma Il portatore di rovina Tranquillo Cambiano No 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 C'è anche Maledetto Nel Aig Fantasy Maledetto Però questa qua È più Avere infastidito Una creatura magica O esplorato Un luogo proibito È più legata Diciamo Al concetto Anche del tabù O del divieto O dell'aver dato fastidio Magari Alla creatura Fatata Esule Che è un altro pg E che ti ha lanciato La maledizione Però non sa come togliartela Sono dinamiche interessanti Che potrebbero esserci Sei afflitto Da una strana maledizione Con quell'effetto Di sfortuna di manifesta In che modo L'hai ricevuta Hai per caso Infastidito Da qualche creatura magica O esplorato Un luogo proibito Chi potrebbe rivelarti Come spezzarla Cioè Princess Moronoke Ok Quello che è il dio cinghiale Ok Viene collegata Una delle minacce Del mondo E una volta Che risolvi la minaccia Sei libero Dalla maledizione Quando sai per effettuare Un test Puoi invece Scrivere in che modo La tua maledizione Complicare le cose E tirare automaticamente Un fallimento critico Se lo fai Ricevi due punti famole Invece di uno E generi un'opportunità Come di norma Un'opportunità Non per te Che sia chiaro Questo è bellissimo Siccome è Dallora Io che mi piace tanto Giocare personaggi Che si autopuglialano Fondamentalmente Nel vero senso La parola E poi quando la risolvi Ti dà pure Un'eroica Di cui Ha piacere Quindi Infatti vado su Un secondo Se riesci In qualche modo A spezzare la tua Predizione Un'abilità erotica A tua scelta Qualche di cui Non soddisfi I requisiti Poi anche Un'abilità erotica Di una classe Che non possiede A differenza Delle altre Che invece Ti richiedono Che sia Di una Delle tue Classi Rampollo Testardo Eh beh Qui Treccio La trivella Subito Di scendere Compaiono Sempre in scena Quando ti serve Il loro aiuto Offro i seguenti Benefici Ecco le informazioni Che aveva richiesto Durante un riposo Puoi porre una domanda Al game master Che risponde Ricendo la verità Faccia attenzione Quando subisci Danno Puoi dimezzarlo Stai giù Stia giù Me ne occupo io Quando crei Una scheggia elementare Puoi farle infliggere Danni extra Pari a 5 Più metà Del tuo livello È un botto Ogni volta Che sfruttioni Questi benefici Tu guardi del corpo Subiscono Un di 6 Fatica Finché hanno 10 o più fatica Non puoi trarre Con 3 su di loro La fatica È condivisa A tutte le guardie del corpo Non è individuale Al termine Ciascuna sessione Tu guardi del corpo Guariscono Da un di 6 Fatica Sia chiaro Sono sempre con te Vuole dire Che se vieni lanciato Fuori dall'aeronave Cadono insieme a te Se vieni catturato Vengono catturati Assieme a te Ovviamente Fanno anche un po' Da comic relief Probabilmente In tutto questo Questo box È importante Perché molte Di queste priorità Possono portare In campo Argomenti Molto delicati Che possono Mi hai appena fatto notare Che non ho aggiornato I nomi delle cose Sì stavo vedendo Anche io Cuore prigioniero Da un mondo lontano Vabbè tanto è un No è che le avevo aggiornate Quindi mi sa che ho sovrascritto E mi sono annullato Il mio stesso lavoro Questo qua ragazzi Molto semplicemente Sono cose che vanno Discussi in sessione Zero Cioè argomenti Che creano disagio O argomenti Magari che persone Trattano Non con la delicatezza Opportuna Fategli notare Con l'educazione Oppure Non tirateli in ballo Se non sapete Come trattare un argomento È meglio Non trattarlo Sono d'accordo Cioè Quel mio parere Ovviamente Ci può stare Io sinceramente A 16 anni Non avevo la sensibilità Che ho adesso a 40 Chiaro Quindi è normale Si cresce Si capisce Nei propri errori E si capisce Dal mondo Che ci circonda A ISO Se una bolla Non ci sono preoccupazioni Poi iniziano i cazzi astrali È un modo di dirlo Piuttosto Piuttosto Esplicito Ma efficace Cioè È vero Nel senso Io da ragazzino Ero parecchio Diciamo Sovrappeso Se i miei Più cari amici Mi dicevano Ciccionazzo Me ne sbattevo Adesso immagino Che una persona Di 40 anni Diceva Un brutto ciccione Invece Sia una cosa Che lo faccia soffrire Sono cose Che si imparano Crescendo Purtroppo Siete educati Ricordatevi sempre questo Educazione Inclusività Inclusività Non è altro Che essere educati E avere rispetto Sì esatto E rispettare Le altre persone Cioè ad esempio Io vedo Ema che ha la sciarpa Lo prende in giro Perché ha la sciarpa Se ha messo Il difetto fisico Non è che lo prendi in giro Per il difetto fisico Sì non mi prendi in giro Ad esempio Perché non ho quasi Più capelli Sulla parte alta Della testa Non ti ho mai preso In giro È vero Non l'hai mai fatto Non capisco Se sei ironico Non l'ho mai fatto Non sono ironico Eh lo so Ma sembra che tu sei ironico Cioè mi puoi passare Una persona orribile Cioè Cioè Per favore Contratto rescisso Fino morto Ma no ma sei tu Che ti stiamo dicendo Cioè è una cazzo di sciarpa Sono in casa Cioè nel senso Ok Allora Robo Ah Questa è un'altra Che c'è in tutti Gli stili Ma cambia parecchio Le domande che ti fanno Vi prego Fate Fate Una Due peculiarità Dove un personaggio È armore Un personaggio è robot E si insulta la vicenda La mattina e la sera Io sono l'unico costrutto Non è vero Tu sei l'unico costrutto No io sono l'unico costrutto E poi si scambia i pezzi Sei un corpo artificiale In cui brillo Una vita misteriosa Discendente Solitario Di un'epoca perduta Nel tempo È un aspetto organico O meccanico Madonna che Un organico Tipo un sintetico In una situazione Natural fantasy Eh sei fuori posto Cosa ti impedisci percepire O comunicare Come farebbero I normali esseri umani Quali ricordi Frammentati possiedi Dell'epoca in cui Si è stato creato È un armonio Comunque ragazzi Metallico Fondamentalmente Sei immune a uno status Sei resistente Da di terra E avvelenato Eh no scusate Veleno E terra E avvelenato Non hai bisogno Di respirare E ben o mangiare Però hai lo stesso riposo Ottieni un bonus Più due Test che effetti Per esaminare O interagire Con i macchinari In tecnologia O costrutti Ok Non si apri che test Di Magia e precisione Ma quelli contrapposti Si Quindi Io mangio Con te Mi fanno gesti A caso Ma Erika Mangiate pure Se iniziate a mangiare Io mi riscaldo qualcosa Grazie Scusatemi Sopravvissuto Strano che ci sia morto L'istruzione L'istitologia RPG Non succede mai Se tra pochi Sopravvissuti È una catastrophe naturale All'attacco di una terrificante creatura Credi che ci sia un responsabile Sei riuscito A mantenerti in contatto Con altri sopravvissuti Credi che la ricostruzione Sia possibile Aumenti prettamente I tuoi punti vita massima I punti venti di 5 Scegli un'opzione Puoi equipaggiare Le armi da mischi A distanza marziale Le armature marziali Scuni marziali Oppure Poi In cattesima scelta Tra l'istitologia mentalista E spiritista Oppure aumenti prevententi I tuoi punti venti massimi Di 2 Molto semplice Diretto Molto Super easy Sopravvissuto Spirito elementale Sei in profonda sintonia Con il potere Di un elemento naturale Chi te trovi antenati Ha ottenuto Questa scintilla magica In quale guai ti ha messo Scegli un tipo di danno elementale Aria Fulmire fuoco Ghiaccio a terra Hai la resistenza Al tipo di danno scelto E quando inflici danno Puoi cambiare il tipo Così corrisponde Al danno elementale Che hai scelto È devastante Stato qua Devastante Sei anche vulnerabile A un altro tipo Scelto tra quelli Sì vabbè Ma hai capito Fare cataclisma Con qualsiasi cosa Assolutamente Inoltre Vabbè ma cataclisma Con qualsiasi cosa Ormai lo fai Con la danzatora Non è più solo In cante dei miei pensieri Lo so Però non posso prendermi Anche danzatrice Non è vero Perché sarà il prossimo I prossimi livelli di Ryza Sarà sulla danzatrice Inoltre Ottieni la capacità Di eseguire rituali In cui effetti Rientri nella disciplina Dell'elementalismo Ma solo se mani Poi un elemento La tua scelta Quindi non puoi creare Un mega iceberg Se vuoi Letteralmente Se hai il cataclismo di fuoco Se hai il metal di fuoco Un lungo Ma puoi fare L'esplosione di vulcano Di cui si parlava prima Il lungo sogno È Che qui siamo Al cicchetto Vai Esplicalo tu Che io intanto Bevo un po' Che ho la volarsa Hai la sciacqua Esatto Un tempo il tuo spirito Dimorava nella natura Qualcosa ti ha portato Ad assumere forma umana Ma non sarà per sempre Si è trattato Di una preghiera o magia Quale parte del tuo aspetto Tradisce la tua origine Hai paura Di quell'ultimo addio Questa è Tra le peculiarità Natural quella Su cui lo specchietto Di prima Sugli argomenti Delicati Verte maggiormente Ok Perché Al termine di ciascuna Sessione di gioco In maniera simile A Araldo della rovina Tiri Due di venti E se il risultato È pari o inferiore Al tuo livello Il momento dell'addio Si avvicina Inoltre Quando una regola o capacità Richiede che tu spenda PV, PM O punti fabula Non i punti inventario Puoi ignorare il costo E il momento dell'addio Si avvicina Dopodiché E quindi soltanto Quando Ignori un costo Non con l'aumento Di fine Di fine sessione Se il momento Si è già avvicinato Dieci volte Lasci il mondo Degli umani Quindi al termine Della scena attuale Tornerai a essere Per sempre Un oggetto naturale Inanimato Insieme al resto del gruppo Prenditi il tuo tempo Per giocare Un ultimo momento Dolce amaro Prima di andare Gli esempi sono Trasformarsi in un grande Albero guardiano In un volto sul fianco Di una scogliera Una roccia Dalla forma insolita O nella stella più brillante Del cielo E' importante Che questa cosa Può succedere Soltanto quando Volontariamente Decidi di ignorare Un costo Non arriva a sorpresa A fine sessione La cosa succede Anche se per caso Decidi di sacrificarti Comunque a prescindere Il personaggio è considerato Morto in termini di gioco E non può tornare In alcun modo Ma Ricarica Di uno i punti fabola Di tutto il gruppo Per il resto della campagna All'inizio di ogni sessione Incluso Un eventuale Prossimo personaggio Che sostituisce questo Allora Io qua Ho sempre avuto Un'idea Questo qua I giocatori Lo sanno I personaggi No E Questo Personaggio Deve avere una ship Con un altro personaggio Se questo personaggio È il personaggio A cui il fratellone Ha fatto la promessa State piangendo Cioè State piangendo E non lo dico per scherzare Dico È molto forte Come scena È veramente molto forte È bellissimo Cioè A me è capitato Di piangere svariate volte Delle sessioni di fabola È È proprio figo Poi Notate che Tiri 2 di 20 Cioè Comunque Pari o inferiore A livello attuale Del tuo personaggio Cioè Oggi Ci viene la sfiga E viene doppio uro Ok ragazzi Cioè Però Il motivo importante Per cui Hai il controllo Sull'ultimo passo È che le dinamiche Di questa peculiarità Somigliano già Fin troppo A quelle Di Argomento serio Non scherzo Una malattia degenerativa Ok Lo dico da persona Che ha un padre disabile Che ha una malattia potenzialmente Degenerativa Se questa cosa A buffo A fine sessione Poteva portare via Il personaggio Era Troppo Quindi Attenzione Quando giocate con questa roba Al tipo di tematiche Di scene Di dinamiche Che porta in gioco Perché per alcune persone Potrebbero essere Molto vicine Secondo me Una cosa molto bella Puoi fare che Un kami Che è disceso sulla terra Ma dopo dovrà tornare Secondo me Il modo più safe Di giocarlo È tipo È una principessa della luna Che è giunta E ritornerà alla luna Cioè Quello è il modo più C'era un anime Meraviglioso Che aveva questo titolo qua Che non è Uno vabbè È il tramo base Di Omiadea Che per se qualcuno di voi Non l'ha visto Lo uccido Però dopo finisce tutto bene Però era C'era un anime Bellissimo Che dopo C'è lui che impazzisce Lei che si trasforma in albero Madonna Non mi ricordo Era meraviglioso Era un personaggio secondario Ma bellissimo Bellissimo La principessa Ai capelli azzurri Forse Non mi ricordo Non mi ricordo Era un ragazzino Ma era un bambino Forse Bellissimo Comunque questa qua È per me Forse la più bella Tra tutte le peculiarità È anche la più La più forte Però ricordati Che il mito Della Dea della Splendente Della Dea della Luna Sì sì esattamente Sì Caguya Esatto Volo Esattamente quello Che vi ha pensate Cioè non è nulla di È la cara vecchia Sei in grado di volare Punto Cioè nel senso Perché sei in crisi Con il senso di volare liberamente Prendi tutti i benefici Per fare queste peculiarità Se volete fare Può sembrare Gli schifosi power player Fate un tiratore Con questo Con questo Effetto qua No sai che è peggio il tank Perché se fai guardia Su qualcuno Non è bersagliabile in mischia Né lui né te Perché tu voli Chi è il power player Di merda adesso? Chi è? Non l'ho inventato Non l'ho pensata io Questa cosa Me l'hanno fatta notare Sì sì Me l'hanno fatta notare Il mutante Non può fare guardia Quando è trasformato In terremorfosi E il pilota Se sta volando E fa guardia Torna a terra Solo la peculiarità Volo ti consente Di fare questa cosa E tra parentesi E se tra parentesi Vabbè scusate Ergut ha fatto La battuta No Ergut Io Si è trasformato in albero Poi l'ha piantata Terrib So che volo Sembra anticlimatica Rispetto a quello Che abbiamo appena Visto sopra Ma vi ricordo Che non c'è nessun motivo Di giocare Peculiarità Per forza Super pesante Potete giocare Roba lì Sto pensando All'illustrazione Del mutante Di Morio Che tu sai E vabbè Madonna mia E' troppo Ok Questa qua era l'ultima Che ora abbiamo fatto Perfetto Con le 53 Ma che roba meravigliosa Torniamo in chiamata Sì ma il gusto Del trauma Sì Chris Comunque ho notato A Chris piace molto Il trauma Sì Chris esatto Mi troverei molto bene A giocare con lui C'è Sì Molto bene Mi diverterebbe Vabbè Ci ho giocato Ma ho giocato A Falbergasten Con Crino Noi abbiamo giocato Fabula Tecno Giocava Lo Xifo Simbionte Lo Schifo Simbionte No Giocava L'Axifo Simbionte Zundere Strano Strano Che giochi un personaggio In generale In generale Me lo sarei mai immaginato Ma che strano Che strano La vera tragedia È giocare con me No giochi solo nani Tu Ergot Quindi c'è Nel senso È abbastanza Abbastanza semplice Poi i giocatori Impatizzano E si soffre comunque Certo Queste illazioni Guarda Guarda lo schifoso C'è Cosa è che giocava Giocava un personaggio Incredibile A Falbergasted Cosa giocavi Ah L'investigatrice Giocavi l'investigatrice Ero un picoglioni Se lo sbaglio Era un'astudere Investigatrice Degli anni venti Comunque Sono quasi sicuro Sono quasi sicuro Perché Ah il boe bian Ah vabbè Scusami Scusami Terribile Sto attore boe bian È Meraviglioso Meraviglioso Giusto 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 Hai ragione Hai ragione Il boe bian Che si sdraiava Passava Madonna mia Che scenate Che tirava Meraviglioso Comunque Queste qua Sono le più Che da natural fantasy E abbiamo visto Anche le attività Da campo Quindi dopo episodio Quindi Allora innanzitutto Non iniziate troppo i coglioni Quando esce natural fantasy Stiamo lavorando al techno Quindi aspettate Stare uscendo Adesso l'hai fantasy La cadenza Se tutto va bene Sono le varie lucca Esatto Allora adesso Vi farò vedere La copertina definitiva Del Con anche il retro in copertina C'è già definitiva Se non sbaglio Ah ok Doveva esserci già Sono andati in stampa Giusto Non potevi lasciarli Lasciarli andare Senza un po' di hype Ma sì Un po' di spoiler Allora Stavo per fare uno spoiler Devastante Perché stavo per aprire Il coso dei drive Condivisi con tutti i nuovi giochi E sta Un disastro Folle Ciao Gioco col morto Allora Una campagna Gioco Un baiale Ah ok Il motivo è che voglio giocare Un giorno faremo Una campagna Favola insieme E so già Che non ne uscirò vivo Ma ti sacrifichi La prima cosa Quindi ci sta Allora Favola ultima Mi fa molto ridere Che il commento successivo È di uno Che si chiama Gioco col morto Esatto Ciao Ma io muovo prima Se ne vi aspetteranno Ante due anni Ecco Avete il playtest C'è un sacco Uscirà un sacco di roba Tra l'altro sì Cioè tipo letteralmente Tutte le opzioni meccaniche Sono nel playtest Sì Allora aspetta Non rompete le balle Atlanta High Fantasy Eccolo qua High Fantasy Soft Cover Eccola qua Perché è bianco e nero? Ah perché sarà quella interna Sì è giusto Das Jack Ah c'è Das Jack Infatti scusate Di colpa mia Infatti Eccola qua Ve la faccio vedere Così non ho spaccato i ball Così vedete i colori definitivi Che ci saranno dentro Oh vedete anche le alette Pa 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 E godete Lo guardiamo assieme Presentazione doppia finestra Hola Eccola qua Quelle che vedete qua Sono le note Ok Cioè non ho spaccati i coglioni Ve lo dico già adesso No no esce proprio con i fumettini Ficcabili Allora Questo sarà il colore dominante Come potete vedere Nel base è il verde Questo qua è il Rosino cremisi Non saprei come chiamarlo Rosino pesca Per me è un colore rosino pesca Questo qua E' bellissima Di una bellezza folle Zumbo Così leggiamo Guardiamo prima bene L'immaginona di qua E' il dust jacket ragazzi Come Non sono d'accordo Docta Che la cover dell'Atlante Dà le pizze Al manuale base Secondo me sono Sono bellissime In due modi diversi Esatto Sono d'accordo A me piacciono Tutte e due Sinceramente Questa è più dinamica Ovviamente Ma i personaggi Risaltano di più E sono Più Come dire Secondo me A me piacciono gli eroi Nella posa Quella più calma Quasi greca E quindi Mi piace molto Quella cosa lì Del manuale base Esatto Allora Domanda C'è la cattiva dietro Domanda Perché Perché nel manuale base Non ci sono Le personaggi Delle classi dentro Ma ci sono personaggi Diversi Perché Nel manuale base I personaggi Si possono fare Quello che vogliono Qua invece Sono i nuovi personaggi Le nuove classi Che vengono Vengono messe Quindi I manuali Avranno le nuove classi In copertina Il manuale base Invece avrà le classi Che tutti quanti Abbiamo usato Quelle classi Che non sono solo I fantasy Perché c'è il pistolero C'è il ninja Neil Neil fa notare giustamente Perché sarebbero anche 15 da mettere in copertina Esatto Comunque E per fare capire Allora Naturalmente Non c'è la solita frase C'è la frase nuova Un epico viaggio Vi condurrà Oltre ciò Che credete di essere Anche il destino Dovrà piegarsi All'ardore Del vostro animo Qua proprio c'è Shit out of the dish C'è cagliamo Il simbolista È più che daddy Il simbolista È direttamente Lo zio Non so Ha un look Che ha anche Del lì Che man Devo dire Sono io da vecchio Sono io da vecchio L'Atalanta E fantasy Di fabola ultima Vi porto in un mondo Di antichi misteri Luoghi mozzafiato Magie incredibili Identità potentissime Partite da umili origini Come gli eroi Delle leggenti Dei miti Per guidare i personaggi Verso un destino Epico e glorioso Arrivando persino A sfidare gli dèi Come dei JRPG Più noti Immergetevi Opzionali per dare Maggiore profondità Ai vostri personaggi E spingete al massimo Le loro capacità eroiche Con i poteri zero Cinque cattivi Veri e propri boss Di livello crescente Con cui popolare Le vostre avventure E porre i giocatori Di fronte a sfide Sempre più impegnative E stimolanti 200 pagine a colore Illustrate con immagini Stile manga E cibi Di autori internazionali Un gioco di Fabola Ultima Sì un gioco Un gioco di Fabola Ultima Fabola Ultima Un gioco di Emanuele Galletto Leadgames.it Fabolaultima.com .it PDF incluso 24 ore 90 Sbaglio O mi sembra Che i pallini Siano ancora col verde Del manuole base I diamantini Prima di ogni Neri Magari vedo male Sono neri Ah sono neri Sono neri Perfetto Basta Vedevo male io In contemporanea Esce il manuale base Corretto Sì la La 1.2 Mi pare sia Sia in PDF Sia nella Nella ristampa Esatto Nella ristampa Come una ristampa Che magari L'ha usato troppo Come me Io Nel senso Io ho messo Ho messo Solo due manuali Ho comprato Ho comprato Sono l'editore Quindi non li ho comprati Però sono due manuali Negli ultimi anni Ho preso in duplice coppia Perché li ho usati troppo Uno è Anzi triplice coppia Perché uno in triplice coppia Avevo appena preso la terza Che è All School Station E l'altro Adesso ho preso la terza coppia Che è Fabula ultima Io non faccio Molto testo Perché li sfoglio Quotidianamente Entrambi Effettivamente Ci facevano notare Un paio di cose Allora Dalla chat È vero Avete visto Finalmente il simbolista intero Non so se vogliamo Fargli vedere Anche l'immagine A sto punto Della classe L'aveva visto A parte che st'immagine qua C'era da mo Cioè nel senso Abbiamo fatto Sì sì assolutamente Non è Non è uno E poi Dokta Non è solo il simbolo Di fabula ultima Sullo scudo Nella copertina Del manuale base Ogni personaggio Ha il simbolo Di fabula ultima Da qualche parte La principessa Ce l'ha Al collo La maga Ce l'ha sul grimorio Il ninja Anche sulla corazza E anche Il Il tiratore Ce l'ha sul giacchetto Sì 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 Quindi c'è Facciamo vedere il simbolista Un secondo solo Sì non mi ricordo assolutamente La pagina Te la dico un attimo Devo cercare io Un secondo No no te la dico Te la dico Che altro perché Devo aprire il file Eh lo so Infatti quindi se vuoi 146 Allora aspetta un secondo Che ho chiuso Drag condivisi Fabula ultima Anche a me piace molto Rosetto pesca Mi piace tantissimo Come colore Poi ogni manuale Avrà un suo colore Ovviamente Eh scusa Abbiamo detto Favula ultima Atlantia e fantasy Mi ripeti la falla Per cortesia 146 146 Sì Grazie 146 Eccolo qua Qui se la vedono Tutta bello in grande No docta il verde Non può essere verde O comunque almeno Non il verde Del base E' più probabile Che avrà toni di terra Terra e pergamento Ma per ora A che ti serve un pennello Se il tuo cuore Prova i sentimenti Sbagliati Simboli e immagini Servono un grande potere Nessuno lo sa meglio Nei simbolisti Più che una disciplina magica Il simbolismo È uno studio Su come intessere Le energie magiche Creando segni e icone Possono essere dipinti Rune Sigille Tra i sbagli E altro Molti simbolisti Sviluppano le loro capacità Attraverso ore Di esercizi metodici Ma ce ne sono svariati Altri che vedono Questa disciplina Come un modo Per istruire in libertà La propria visione artistica Cioè La sacerdotessa Spiritista Simbolista Con il pennello gigante Lancia Sì Io sono grande fan Dello stile Mico Con l'arco da esorcismo Che lancia i simboli Tramite le frecce Cioè Comunque Pensa poi Pensa poi usare L'abilità eroica Quella dei rituali No? Che ti permette di conservarli Per metterli nelle frecce E scatenarli all'impatto Cioè È tanta roba Ho troppi personaggi Che voglio giocare Prego notare La meraviglia Che parte Con la carta Che si ferma in un origami E diventa Sì Questa qua È Veramente un'illustrazione Su cui Morio Ha strafatto Perché invece le altre Fanno cagare No? No Ma questa Cioè a livello di moda E di Cioè Io mi rendo conto Che waifu La danzatrice Super waifu La comandante Super usbando Il cantore Le persone Non si fermano nei dettagli C'è questa parte qua Poi è sgranata ragazzi È allucinante È bassa eh Però guardate C'è questa parte qua Con la tavolozza Che si attacca Con dei pennelli Con lo sketchbook Cioè Si lì c'è proprio Cioè vedi che ha ragionato Sull'usabilità Di ogni singolo pezzo Dell'equipaggiamento Ma prego notare l'ombra Dell'incantismo agio Che si riflette sulle scarpe Sulle vesti Cioè Madonna che drago Che è sta ragazzo No no Mario è Fuori di testa Oh ti ricordo sempre Io questa cosa C'ho dei dubbi Non la so fare Sì 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 Ma lo so che è una cazzata Ma il dettaglio Del block notice Qua C'è Con C'è boh Incredibile Anche il fatto Che il block notice C'ha il laccetto Perché devi poterlo Tenere chiuso Esatto No è incredibile È incredibile Cioè vabbè Che poi è quello Che a me Aveva fatto innamorare Dello stile di Wayne Reynolds Per Pathfinder Sì Il fatto che i personaggi Avevano tutti questi dettagli Incredibile Super spigoloso Cioè Incredibile Comunque Torniamo a noi Allora Ragazzi e ragazzi Abbiamo finito questa live Sono le due Sono le due e cinque Spero vi sia piaciute Le peculiarità Natural Fantasy E la copertina Potete ripetere il nome dell'artista Certo Parsifal È Morio Ti linko il suo Twitter Esatto Lì vedi tutte e tutte Illustrazioni Ed è la main artist Di Fabola Ultima E quella che ha fatto anche la copertina Che ha fatto tutti Fa tutti i Caratter personaggio E ha fatto un po' di accessori Anche nel Un po' di fegatelli Del volume base Allora Noi Domani Torniamo con Terror Target Gemini Non so ancora Se sarà l'ora di pranzo Domani pomeriggio Dopo che una matta Si può fare l'uno del pomeriggio Perché l'uno del pomeriggio Non ci sono Mi piacerebbe Fare l'uno del pomeriggio Perché ci sarebbe anche Luca Adesso Adesso vediamo Venerdì invece Torniamo con L'analisi del gioco Non so ancora Se portare L'analisi Di Fallout O di Actuptulu Vediamo un attimino Quale Dei due fare Quindi questi venerdì qua Stranno occupati Da questo gioco Settimana prossima Invece Faremo solo un pranzo Di ruolo Del lunedì E basta Perché Da martedì A lunedì successivo Siamo tutti quanti a Essend Siamo io e Eva Ovviamente Marchino Pedro E Albi Andiamo tutti quanti a Essend E noi cinque Quindi non saremo La fera Sarà lanci Internazionale di Fabula Siamo molto Esaltati Io mi sento Come la prima fiera Quando abbiamo lanciato 7C Quindi Esaltato E un po' Scagazzato addosso Esatto Ok Usate che è la nostra Prima stand Internazionale In Predint Games Quindi Siamo cresciuti È una soddisfazione Da fondatore Dell'azienda Che non potete Immaginarvi Per quante persone Hanno creduto In noi Quante persone Stanno amando In Games Non solo più in Italia Ma anche all'estero Quindi non ci sarà solo Ruolano e duro sempre Ma always Rollplay hard Vi ricordo che Questo urlo È stato urlato Da Giovanni Gagliello A Lucca Abbiamo fatto Un porcello Dopodiché Torneremo La settimana successiva Che sarà Lunedì Die undici Non andiamo live Saremo giù da mercoledì Tredici Tredici Se siamo ancora vivi Vedremo Esatto Vi ho messo in chat I due appuntamenti Lunedì tre Sì E questo Lunedì All alive Di Luca Comis e Games La sera Prima di partire Per essere Sì Certo Sì Vabbè Perfetto dai Se poi sono già a Milano Vengo direttamente A farti la voltoria Sulla spalliera Guarda Ti faccio Backsitting Esatto Ci sarà qualcosa Allora perfetto Ci sarà qualcosa Però allora aspetta Devo procurarmi Una parrucca E fare anch'io Il cosplay Perfetto Come comas Perfetto Vieni qua La facciamo in ufficio Vieni qua con me Qui saremo io Saremo io e Eva Quindi il top E poi il giorno dopo Portiamo belli pacciarotti Belli freschi Anche relax Comunque Grazie Grazie mille a tutte E a tutti Noi parteci Vedremo Tra un mese esatto Siamo a Luca Che giorno è oggi Il 28 settembre Inizierà Luca Comis in game Dio santo Tra un mese esatto Siamo a Luca Quindi tra un mese esatto Avete tra le mani L'Atlante di Fabula Esatto Un mese Quindi resistete Un mese E via Tra le mani Tipo tra i denti Non so Io sono già morto Sono già disintegrato Se hai due mezzi Si Farò già schifo Un mese Noi ci vediamo stasera Con me Probabilmente morto E afono A giocare Monster A giocare Monster A giocare Monster A giocare Monster Sul canale di Morgan Cable Sul canale di Morgan Cable Sì l'ho linkato In chat Ok ottimo Questa sera E domani a pranzo Se volete La creazione del mondo La facciamo insieme Alla chat Quindi Quindi domani a pranzo Andate su canale di Morgan Cable Vi teniamo compagnia Esatto Detto ciò Ema Grazie mille Come sempre Grazie a te Grazie Grazie a tutta la chat Siete sempre super mega Calorosi Vediamo se c'è qualcuno A cui fare un raidino Carino Carino Ma sì C'è la c'è la curo ragazzi Vi vado Dalla curo Fate un raid Scrivete Ruolare duro sempre Raid Curro Lili Io vi ringrazio Vi auguro un buon pranzo Se l'avete pranzato Vi auguro di ruolare duro sempre E noi ci vediamo Domani Per Terror Track Ciao a tutte E a tutti Facciamo sto raid È andato Perfetto Tra quanto parte il raid? Tra sei secondi Cinque Ricordatevi Ruolare duro sempre Ciao Ciao a tutti 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 Grazie a tutti